merda ma qui te l'ha già fatto stef cioè ciao io perdo e dove sei? qua eh guarda che giallo che rosa non muoverti lascia che lo prenda io questa è la frase mi sembra abbastanza ripetizioni 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 per goderne non valgono sono la prima parte no no non muoverti lascia che lo prenda io voglio voglio ma adesso posso disporre tutte le macchine? sono morato o non credo se non è questo mi sembra di stare alle pavide ti prego invece la civettuolo qui Jacopo ha scommesso diversamente e rischi veramente di essere risucchiato nel gruppone si siete tutti? si morirò con gli altri dai cinque mi